Un'autentica supercar travestita da compatta sportiva premium, un modello utilizzabile tranquillamente tutti i giorni sulle strade ma che certamente trova la sua massima espressione in pista. Ed è proprio sul circuito di Vallelunga che abbiamo messo alla frusta il 5 cilindri più potente della storia RS, 367 cavalli e prestazioni eccezionali con velocità massima fino a 280 all'ora e scatto 0-100 orari in appena 4,3 secondi per consumi medi di 8,1 litri per 100 chilometri ed emissioni di CO2 sotto i 200 grammi al chilometro. La nuova trasmissione Aldex 5 a gestione elettronica garantisce prestazioni dinamiche fuori dal comune. Alla straordinaria motricità 4 by Audi si aggiunge la possibilità di trasmettere fino al 100% della coppia al posteriore. Se vi piace andare forte pennellando le traiettorie la nuova RS3 Sportback fa per voi. Le prenotazioni sono aperte e con un prezzo sotto i 50.000 euro il successo garantito.